ciao a tutti bentornati sul canale come state allora oggi sono qua per un piccolo video haul di saldi natalizi cioè sono stata al centro commerciale e ho comprato un po di cosine vabbè sono andata da tiger e ho preso i tovagliolini solo uno era di natale questo qua gli altri sono con tema tazzina e tutti questi li ho pagati due pound c'erano sui sconti hanno tolto già tutte le cose di natale oggi è il 28 di dicembre non ci sono più cose natalizie giustamente credo che adesso metteranno le altre collezioni però era tutto vuoto e c'erano pochi scaffali con poche cose e appunto io ho preso questi stop poi sono stata da uniclo il negozio di abbigliamento giapponese e io ho comprato ho fatto la scorta quest'anno con i saldi di queste cose che sono in tecnologia come dire japan technology extra warm che fanno ci sono tutte robine che tengono molto caldo in questo caso io ho preso una cannottierina s queste qua mi piace utilizzarle sotto i maglioni perché io d'inverno devo stare calda quindi queste effettivamente tengono caldo e appunto io me le metto sotto i maglioni quindi ho preso questa poi ne ho presa un'altra che è sembra questa felpatina infatti il tessuto è morbido ultramorbido questo qua è beige ed è a collo alto questa è proprio una maglia insomma anche questa qua natalia s no questa è una xs ho preso adesso non so quale mi starà meglio di solito io prendo la s da da uniclo però questa qui l'avevo appoggiata avevo visto che più o meno di spalle ci siamo insomma questa sembra tipo una una felpetta però fatta a collo alto e così ora voglio utilizzare anche quando andrò insomma sul campo da golf perché in questi giorni fa veramente super freddo e quindi queste cose qua sono utili e poi ho comprato anche quest'altra che è una s questo qui anche a collo alto ed è grigia non c'erano tantissimi tantissimi colori perché le cose sono andate tutte via stanno tutte al prezzo scontato e quindi vabbè quello che ho trovato insomma ho preso però queste cose qua io ve le consiglio perché tengono super caldo quindi se come me d'inverno avete freddo insomma voi sotto il maglione mettete anche una di queste state benissimo anche per la montagna magari insomma per tutti gli sport che vengono fatti fuori al freddo queste cose di uniclo sono super consigliatissime quindi queste tre e poi ho preso anche questi che sono dei come si dice dei leggins anche questi super caldi in pile perché dentro vedete non so se si nota ma sono morbidi perché sono in pile e sono stretch perché appunto sono dei leggins c'erano gli sconti qua ho lo scontrino e diciamo che le t-shirt che ho preso le ho pagate 19 pound e 90 e anche i leggins 19 pound e 90 quindi tutte queste cose scontate quindi se vi capita e vi servono queste cose e questo è tutto il mio shopping e volevo far vedere quindi video all velocissimo saldi ho preso solo questo non mi serve altro quest'anno insomma io vado compro solo ciò che mi serve non penso di comprare cose per le prossime stagioni una volta ragionavo così vabbè compro adesso questo maglioncino che in super saldo me lo metterò col prossimo anno insomma lo sfrutterò però non lo so adesso preferisco utilizzare le cose che ho e poi magari prossimo anno vedremo insomma quindi sono cose che strettamente necessarie questa è la mia filosofia in questo momento vi saluto fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa da unico se vi piace questo negozio se avete qualcosa da consigliare perché c'erano anche tante belle giochine di quelle appunto sempre termiche molto sottili e infatti non lo so forse una di quelle potrebbe anche essermi utile da mettere sempre sotto il giocone per potenziarne gli effetti insomma così caloriferi vabbè adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video continuate a seguirmi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere altri video shopping o non lo so ciao 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 ciao